Finché non ci si avvicina, la maggior parte delle persone rimane indifferente, sono tutti tondini, dico io. Quando però, come tutte le cose, gli vengono spiegate, capiscono che questi oggetti parlano, possiamo tirar fuori la storia, la storia dell'arte, la religione, e beh, allora acquistano un fascino tutto l'oro. Dalle antiche monete metalliche alle preziose medaglie, all'interno di Palazzo della Fonte, un nuovo spazio espositivo. Si tratta della sezione di numismatica della Fondazione Ivan Bruschi. Ci è persa l'occasione di ritrovare, riportare al grande pubblico queste monete che, secondo me, questa collezione numismatica, sono centralmente un punto di vanto della Fondazione e credo della città di Arezzo. Circa 4.000 le monete in esposizione che vanno dalla premoneta italica sino al XX secolo. In mostra anche pesi monetari, gettoni, medaglie e sigilli. Questa qui è la prima moneta fusa di Roma dove c'è il nome della città. Quindi risale al III secolo a.C. Altrimenti c'è questo che è un frammento di un pane di bronzo che proprio agli inizi della città di Roma lo utilizzava come mezzo di pagamento al posto del bestiame. Oltre a questi, i biglietti dell'area italiana della raccolta di carta moneta di UbiBanca esposti in tutto 1450 esemplari. Comprende dalla prima biglietto usato effettivamente come carta moneta in Italia fino all'euro. Il nuovo spazio di esposizione rende disponibile anche su richiesta la consultazione e la visione da parte degli studiosi degli esemplari più rari e prestigiosi. Abbiamo in ponte una serie di iniziative che verranno ben presto pubblicizzate che saranno un interiore arricchimento anche per i giovani e non solo per gli studiosi. Grazie.